Salve a tutti amici, in questo video vediamo come aggiungere un sottofondo musicale sui Reels di Instagram senza andare a sostituire la nostra voce, quindi noi facciamo un video con la nostra voce e ci mettiamo un sottofondo con il volume che decidiamo noi, questo su iOS purtroppo non ho trovato una funzione alternativa per Instagram di Android non so se magari un giorno arriverà, però intanto vi faccio vedere questa allora registriamo il nostro Reel, qua parlerò prova di registrazione, questa è la mia voce bene, andiamo avanti prova di registrazione, questa è la mia voce adesso io clicco prova di registrazione, questa è la mia voce abbasso temporaneamente il volume allora dobbiamo fare tap qua, sul simbolo dei regolatori e adesso c'è la funzione combina audio, possiamo fare aggiungi e qua possiamo cercare una canzone io ne prendo una Royalty Free ok piazziamo questa ad esempio allora andiamo a decidere il punto quindi selezioniamo il pezzo da inserire facciamo fine e adesso trascinando con il dito qua prova di registrazione, questa è la mia voce possiamo combinare i due volumi la nostra voce, quindi il nostro Reel e la musica di sottofondo prova di registrazione, questa è la mia voce ed ecco fatto quindi con questo trucchettino possiamo fare dei Reel molto molto interessanti roba semiprofessionale diciamo così spero di essere stato utile, un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti